Allora io sono Antonella Marrocchi, faccio parte di una cooperativa sociale, che è anche un'impresa sociale, che si chiama Metis Community Solutions, che è nata all'Aquila l'anno scorso, nel 2018, ma viene dal lavoro che ha fatto Action Aid nella città dell'Aquila subito dopo il terremoto. Lavoriamo per ridurre la vulnerabilità di questo territorio attraverso la costruzione di un modello partecipativo che coinvolga i cittadini e soprattutto i giovani. Lo facciamo quindi partendo dai progetti nelle scuole che parlano di monitoraggio civico, di ricostruzione partecipata e di obiettivi dell'agenda dello sviluppo sostenibile 2030. Lavoriamo anche a fianco delle organizzazioni nazionali che organizzano il Festival della Partecipazione. Nei anni precedenti ci siamo occupati dei volontari del Festival, abbiamo anche fatto un percorso con le associazioni locali per far emergere i bisogni del territorio. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare. Lavoriamo all'Aquila in Abruzzo cercando di esportare, diciamo così, anche questa parola, comunque cercando di divulgare quello che è il metodo partecipativo e in particolare inizieremo a pescare un progetto sul bilancio partecipativo. Il mio sogno come persona è quello di stare in questo territorio e fare la mia parte per lavorare la sua rinascita. Ho deciso di restare qui dopo il terremoto e cerco di farlo nel migliore dei modi possibili e spero di dare un contributo importante per questa terra. Grazie a te.